Musica Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale Sono JoePah17 e oggi ragazzi sono tornato su Splatoon per un video velocissimo Ragazzi pochi secondi solo per dirvi che Il video delle partite che avete giocato con me ieri sera le troverete online oggi Ho deciso di pubblicarvele subito così potete vedere subito cosa avete combinato Se avete vinto, se avete perso, come avete giocato Ragazzi in questo video voglio anche comunicarvi che purtroppo non potrò essere online su Splatoon sabato E quindi partecipare immediatamente allo Splat Festival appena lo apriranno Però se volete giocare con me e partecipare allo Splat Festival insieme a me Sarò online domenica dalle 5 alle 6 quindi un po' prima della chiusura Perché purtroppo prima non riesco assolutamente a essere online E ragazzi direi che più o meno vi ho detto tutto Solo un'ultimissima cosa Mi raccomando domenica non perdetevi l'InfoTimes Splatoon Il classico video domenicale che vi pubblico in cui vi comunicherò i nuovi giorni e i nuovi orari della prossima settimana In cui sarà online e potremo giocare insieme Naturalmente le partite che giocheremo insieme saranno tutte registrate Ragazzi penso di avervi detto tutto Spero che queste informazioni vi siano utili Ragazzi buon Splat Festival a tutti Come potete vedere hanno già preparato il camion qua dietro di me E ragazzi come sempre se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel like Commentate, condividete, iscrivetevi al canale Mi raccomando in descrizione potete trovare la mia pagina di Facebook Fateci un salto E ci vediamo nel prossimo episodio sempre qui su Splatoon Alla prossima ragazzi